Quest'anno sto trovando continuità che l'anno scorso purtroppo non l'avevo, sono contento e sto cercando giorno dopo giorno in allenamento e partita dopo partita di dare sempre il massimo per questa maglia. Poi riguardo la squadra, io la vivo giorno dopo giorno e vedo che comunque la squadra c'è e è presente e si vede anche da come giochiamo perché comunque le nostre azioni le creiamo partita dopo partita. Purtroppo ci manca un po' di cinismo davanti che secondo me a breve arriverà. Diciamo che mi dà un po' fastidio questa cosa che alla prima occasione che ci creano gli avversari riescono a buttarla dentro. Su questo dobbiamo migliorare forse con un po' più di attenzione sulle marcature o dare un richiamo in più al difensore su una posizione cercando di evitare queste situazioni che si trovano davanti a noi. L'anno che ho giocato Porto Cruaro non eravamo una squadra da primeggiare in calcifica, però comunque c'erano partite che ci difendevano abbastanza bene e quindi i tiri non ne ricevevo tanti. Sicuramente non è come quest'anno, però bene o male siamo lì. Sapevo di arrivare in una grande società comunque con una squadra che sulla carta ha dei giocatori importanti e quindi mi aspettavo questa situazione. È più difficile perché comunque sei meno impegnato e quindi devi sempre cercare di stare concentrato fino al novantesimo perché magari arriva una palla al novantesimo e devi essere sempre sul pezzo. Quello è un po' difficile. Come tipo di lavoro è il primo anno che lavoro in questa maniera qua. Devo dire che appena arrivato ho visto gli allenamenti che erano belli tosti, però dopo qualche giorno se ne vedevano già i frutti. Quindi lavoriamo tanto durante la settimana per ottenere buoni risultati alla domenica. Il nostro ruolo è completamente diverso da tutti gli altri perché il nostro modo di lavorare è totalmente differente. Siamo appunto quattro portieri giovani e ci aiutiamo molto anche nel allenamento, ci diamo consigli su dove si può migliorare. Parliamo molto anche su cosa uno potrà fare meglio o no e quindi siamo un gruppo molto unito. Noi sappiamo che ogni domenica ci aspetta una battaglia e quindi cerchiamo di affrontarla come finora abbiamo sempre fatto, con la massima concentrazione e determinazione. Creiamo tante occasioni durante le partite e questo da una parte è buono perché comunque vuol dire che il gioco c'è e tutto. L'unica cosa appunto come ho detto prima ci vuole un po' più di cinismo davanti che arriverà presto. Sicuramente sarà un ambiente molto caldo e sappiamo che come tutte le partite sarà una battaglia e dobbiamo cercare di tornare a casa con il bottino pieno, con i tre punti. Non saprei però visto il momento che magari stanno passando difficili, magari ci aspetteranno per poi ripartire in contropiede. Beh diciamo che sui rigori prima di Latina in partita sui 90 minuti non ho ancora parlato uno, poi a fine diciamo a quelli dopo i supplementari mi era capitato già il tornei però con la primavera così. Diciamo che con i rigori mi ha parlato anche col mister, ci ha dato qualche consiglio e diciamo che è andata bene, dai, finora. Ci ha detto solo di dare superficie e spingere verso il palo, poi non ci ha detto chi batteva, ma sono andati a sensazione. Il posto sicuro non te lo assicura mai nessuno, quindi voglio dire è ovvio che sono venuto qua per mettermi in mostra e dimostrare le mie qualità. Finora ci sto riuscendo e spero di continuare così.